Paura davanti ad un supermercato di Bari dove una coppia di nigeriani non ha esitato a difendere a colpi d'ascia un posto da parcheggiatore abusivo aggredendo un altro africano. I due sono stati arrestati per tentato omicidio. La vittima però è riuscita a reagire e a disarmare l'aggressore, finito in ospedale con ferite alla testa e una spalla lussata. Ne avrà per 20 giorni. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nel parcheggio dell'Ipercop di Viale Pasteura Bari. La coppia, Kelvin Eweka, 33 anni, e la sua compagna Patience Osewi, 29 anni, entrambi senza fissa dimora, si è scagliata armata di un'ascia contro un altro africano parcheggiatore abusivo di 31 anni nel Gambia con l'intento di ucciderlo. Hanno mirato alla testa ma la vittima è riuscita ad evitare i colpi e a disarmare il suo aggressore. Al termine di una violenta colluttazione, uno degli aggressori nigeriani ha avuto la peggio finendo in ospedale.